Rihanna si sposa, spunta l'anello di fidanzamento di Hassan Rihanna presto sposa, la cantante pronta a convolare a nozze con il fidanzato milionario Hassan? L'anello sospetto. Rihanna è già pronta per il matrimonio? La relazione con il fidanzato Hassan sembrerebbe procedere a gonfie vele, tantè che oggi, in un'immagine pubblicata nell'ultimo numero di Vanity Fire, la cantante pare mostrare in foto un anello sospetto. Alla mano sinistra la 29enne, infatti, sembra indossare proprio un anello di fidanzamento, la coppia sta pensando dunque di convolare a nozze? Il 2017 per Rihanna è stato un anno ricco di soddisfazioni professionali e lavorative, quindi adesso è ora di pensare all'amore. Gli occhi di tutti, oggi più che mai, sono puntati su di lei. Rihanna e Hassan, amore, feeling e convivenza. La storia d'amore tra Rihanna e Hassan è riuscita ad attirare fin da subito l'attenzione dei più curiosi. Le foto scattate dai paparazzi, fino agli albori della loro storia, non hanno fatto altro che confermare il forte feeling tra i due. La cantante oggi, dopo le precedenti relazioni burrascose, sembra essere felice e contenta e, con quell'anello al dito, anche ricca di buoni propositi. L'anno nuovo per Rihanna potrebbe rappresentare dunque un nuovo inizio, quello di una lunga vita insieme al suo fidanzato. Dopo la convivenza la coppia oggi sembrerebbe pronta al grande passo. Rihanna, amori sbagliati e legami pericolosi. Oggi Rihanna sembra vivere un bel momento. Non sono troppo lontani però gli anni in cui la cantante ha dovuto fare i conti con una relazione tossica e un fidanzato violento. Riuscire a riprendersi in mano la propria vita per lei non è stato facile ma, alla fine, la regina del pop è riuscita ad uscirne a testa alta. Il futuro adesso sembra davvero essere prospero e ricco di belle sorprese, finalmente gli anni bui sono finiti. Fiori d'arancio e nozze in arrivo, il nuovo anno per lei non poteva iniziare meglio.